La terza ondata pandemica è arrivata, spinta dalla variante inglese. Questa pandemia da momenti ci sorprende, ma sappiamo anche che esiste una chiara prevedibilità nei trend di contagio. Era previsto l'arrivo di questa terza ondata ed è successo. Diciamo la verità, alcuni nostri comportamenti l'hanno favorita. Ci sono immagini che tutti abbiamo in testa. I tifosi fuori del San Siro prima del derby. I navigli pieni, che ormai sono diventati il set ideale per catturare un'immagine di gente assembrata, verbo che in passato non usavamo ed è diventato di pubblico utilizzo. Ma la verità è che a volte il rispetto delle regole manca davvero. Ieri sera ho fatto un giro per la città e ho visto troppi, troppi gruppetti di persone a chiacchierare con la mascherina abbassata. Le mie parole possono piacere o meno, ma lo sapete sono la verità ed è altrettanto vero, e io a questo punto lo sottolineo, che i gruppi sono talmente tanti che diventano incontrollabili dalle forze dell'ordine. Detto ciò, oggi rafforzeremo i controlli, ne ho appena parlato con il questore, ho chiesto un intervento più deciso per questo weekend e così sarà. Ora capisco che tutti siamo stanchi di stare in questa situazione e lo sono anch'io e come, ma c'è almeno una cosa che dovremmo avere imparato. Più ce ne approfittiamo per così dire e più paghiamo pegno. Siamo in arancione da lunedì, ma avendo davanti un weekend in giallo e di bel tempo, vi chiedo di tenere un comportamento corretto. Fatelo per la nostra salute innanzitutto, ma fatelo per chi negli ospedali sta tornando a lavorare a ritmi che speravamo non necessari. Fatelo per tutti quelli che spesso da volontari si mettono a disposizione di chi più è in difficoltà. E fatelo anche per tutti quelli, pensiamo solo a titolo di esempio perché le categorie sono tante, a ristoratori o al mondo della cultura che non possono lavorare. Vi prego comportatevi in modo adeguato al difficile momento. Buona giornata a tutti voi.